Primo weekend di novembre ed è già festa, complice il ritorno di un tempo più clemente dopo le forti perturbazioni di questi giorni. Sono molti gli appuntamenti che animeranno piazze e contrade del Vicentino con iniziative per tutti i gusti. A Vali del Pasubio, sabato 4 novembre, Militari a Di Cardo, un viaggio nel tempo attraverso libri, cartoline e fotografie. A Vali del Pasubio ancora il 4 novembre, Ferro, Fuoco e Sangue, un viaggio nel tempo attraverso libri, cartoline e fotografie. Da sabato 4 novembre a lunedì 4 febbraio 2024. A Malo, domenica 5 novembre, Malo Misteriosa. A Tiene, sabato 4 e domenica 5 novembre, il Castello delle Scoperte. A Brandola, domenica 5 novembre, un uomo, sette donne e un mistero. A Trescheconca, domenica 5 novembre, festa degli anni d'oro. A Bassano del Grappa, dal 3 al 5 novembre, Art & Choc, il tour dei cioccolatieri. A Mosone, di Cocolo del Cengio, domenica 5 novembre, Castagnada, in piazza.